Questo è un disco che fa sempre sognare, Human dei The Killers, qui su MSL Radio TV, Klaxon! Parlavamo di uno dei problemi mai risolti nella città di Roma in traffico, dopo due ore sul raccordo anulare torni a casa, apri il frigo e non trovi nulla, ma che mi mangio questa sera? Non lo so, se c'hai qualche scatoletta, tu che comunque sei un po' attempato, hai rotto le scatole con questo attempato, hai rotto! Anche brizzolate i capelli bianchi, Maurizio, c'è un problema! Beh, io non cucino, non cucino, non ho scatolette, non ho niente, cosa fai? Poi cosa fate? Poi cosa fate? Io, per esempio, se non trovo nulla, esco da cena fuori! Sì, se no, Gassit! Sono una fighetta! Lo conosci, Gassit? Lo sai che cos'è un'altra? Ma lui è un po' old, quindi come fa a sapere che cos'ha un'altra? Non ho nulla! Non hai app? Vabbè, vabbè, vabbè! Cosa ordini? Cosa ordini? Cosa ordini? Gassit è un app, perché praticamente tu puoi prendere quello che vuoi, naturalmente cinese, giapponese, cosa ti piace a te il cinese, il giapponese, americano, hamburger, pizza, pasta? Bolognese! 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 Non andare sul becero però non importa! Ma non ho problemi di linea, vedi? Sono diventato un figurino! Sì, sei diventato un figurino! Chiaramente non ci vedono, però potete dirlo agli ascoltatori! Assolutamente, sì! Beh, io immagino quando tu vai in palestra ti va a fare la doccia, perché insomma, se questo è il risultato... Non lo so se sta a fare la doccia, sento un odore qua dentro! Però, vabbè! E li lavate sempre voi? Sì, sì, sì! Sempre! E voi cosa fate quando tornate a casa, aprite il frigorifero e non trovate nulla? 39 300 400 per inviare i vostri messaggini Whatsapp, anche vocali, quello così, almeno che vediamo in diretta! Ora arriva ancora in Lazio! In Clara Cassaccia! Grazie!